Bene, a questo punto direi di fare un break dalle corse e tornare a parlare di Olimpiadi. Olimpiadi per vedere quello che è successo ieri per quanto riguarda... Ho fatto già un inizio di collegamento ieri proprio con il signor Reitano per parlare un po' di quello che stava succedendo a Rio per l'equitazione, il dressage, il cross country e la giornata ieri non è andata benissimo per quanto riguarda l'Italia. Andiamo a leggere un po' un comunicato appunto, si è concluso ieri all'Olimpi Equestrian Center di Deodoro il cross country seconda prova del programma della disciplina del completo. Come da aspettative il test di campagna si è rilevato estremamente selettivo e sia la gradatoria individuale che quella a squadre hanno subito degli avvicendamenti. Ecco qua le immagini di copertura. Gli azzurri in gara hanno affrontato l'impegno di oggi con decisioni riuscendo a guadagnare posizioni nella classifica individuale. La miglior prestazione ederna è stata quella di Pietro Roman che ha interpretato al meglio il suo barra d'uffe chiudendo la prova senza prendere i tagli ostacoli suppur con un fuoritempo. Ai 48 e 20 punti negativi del dressage si sono aggiunti i 20 di oggi per un totale dopo due prove di 68 e 20 che gli sono valsi la ventitresima posizione. Ieri era trentottesimo nella provvisoria. Ariagna a Schivo ieri 54esima con 55 punti negativi con Quefira de Lorme è incappata in una fermata che in aggiunta di un fuoritempo ha gravato sul punteggio di ulteriori 50 e 40 punti negativi. Il totale di 105.40 colloca la Zulla in trentaseiesima posizione. Due le fermate più un fuoritempo per Luca Ramon che con Castlewoods Jake per un totale di 122.40 punti negativi che valgono la quarantesima posizione. Ieri con 50.80 punti negativi era quarantaseesimo. Sfortunata la prova della nostra punta di diamante diciamo di Stefano Brecciaroli che con a pullo Kurt formava il binome azzurro più atteso specialmente dopo la decima posizione che occupava fino a ieri. L'azzurro e il suo baio sono stati eliminati per non aver superato correttamente entro il fronte delimitato delle bandierine che delimitano gli ostacoli il secondo elemento della combinazione posizionata all'interno di uno dei due laghetti che facevano parte del percorso. Peccato. Nella graduatoria a squadra l'Italia così scivolata di due posizioni passando dal decimo posto con 269 punti negativi le prime posizioni delle graduatorie sono state rivoluzionate in entrambi in testa ora si trova l'Australia. Oggi nel pomeriggio ora italiana a partire dalle ore 15 si svolgeranno le finali di completo salto agli ostacoli a squadra. Speriamo che possa cambiare qualcosa in questo pomeriggio si sa che insomma il completo sono tre attività vale a dire il dressage il secondo giorno è il cross country mentre il terzo giorno appunto è il salto con gli ostacoli questo è appunto la disciplina che si chiama completo. speriamo che insomma di portare bene con questo nostro intervento magari all'Italia in modo che riusciamo a risalire qualche posizione nella graduatoria.